Your Way, la tua via. Your Way è il nome che ho dato al percorso breve di coaching che propongo a chi mi chiede sostegno. L'ho scelto anche come titolo di questo libro. Perché? Perché sono convinto che per trovare davvero la propria via occorra diventare la propria via. Per fare questo, per diventare la propria via, ho immaginato 15 parole. 15 parole che ho voluto chiamare parole del cammino. 15 parole ispiranti che possono rappresentare dei cartelli segnaletici durante il nostro percorso. Esse ci esortano a stare sul percorso dell'esplorazione e della ricerca, consapevoli che forse mai troveremo la nostra via ma che il solo fatto di ricercarla ci farà vivere più autenticamente il tempo che ci è dato. Le 15 parole corrispondono ad altrettanti capitoli. Ad ognuna di esse è dedicata una riflessione di approfondimento. Sfida, essenzialità, cambiamento, atteggiamento, esplorazione, molteplicità, passione, destino, futuro, armonia, essenza, potere, volontà, azione, amore. Si tratta di concetti che ho provato a mettere a fuoco in tanti anni di ricerca e applicazione sul campo e che con questo saggio metto oggi a disposizione del pubblico, ben sapendo che certamente non potranno essere esaustivi. L'obiettivo che mi pongo con quest'opera consiste nell'ispirare, non nel formare. Insomma, l'utilità di questa lettura dipende un po' anche dal lettore, dalla sua disponibilità a farsi ispirare, dalla sua sensibilità nel cogliere i messaggi nascosti e nell'interpretare, sulla base del proprio vissuto, quelli più espliciti. La prima delle quindici parole del cammino è sfida. Per vincere le proprie sfide bisogna centrare gli obiettivi che ci si pone. Si tratta di una convinzione, forse di una credenza, molto comune. Nel mondo del management, ad esempio, si dice che un obiettivo per essere davvero qualificabile come tale deve rispondere a cinque caratteristiche riassumibili nell'acronimo SMART, pari ideato nel 1981 da George Doran, direttore della pianificazione aziendale per Washington Water Power Company. Gli obiettivi, secondo l'acronimo SMART, dovrebbero essere specifici, misurabili, realizzabili, rilevanti, temporizzabili. Anche le pratiche di coaching partono normalmente dalla definizione di obiettivi SMART. Senza un obiettivo si dice la strada non è segnata. Siamo sicuri? Non lo so. Possiamo anche perdere di vista i nostri obiettivi, ma saremo sempre salvi se avremo coscienza della nostra sfida, se conserveremo la consapevolezza della partita che dobbiamo vincere per sentirci realizzati. Se volgo lo sguardo aritroso non vedo obiettivi raggiunti. Vedo piuttosto una sequenza di tentativi, di sperimentazioni, di visioni cangianti, di scelte improvvise, talora improvvide, insomma detta fuori dai denti di errori. Mi consola però il fatto che anche le più straordinarie scoperte non avrebbero avuto luogo senza una precedente serie di tentativi falliti, di sperimentazioni rivelate inutili, di ripetuti mancati successi che hanno però rappresentato dei passaggi cruciali verso la soluzione. Di fronte all'errore il più delle volte non si ha la coscienza del suo valore. Non abbiamo coscienza del valore dell'errore già che tale valore si rivelerà solo successivamente, talora dopo anni e anni. Quindi lo viviamo come un fallimento to cure, non come una tappa di avvicinamento alla verità possibile. Non avendo coscienza del valore dell'errore possiamo solo fare un atto di fede e scegliere di volergli bene, scegliere di guardarlo come un passaggio, in fondo come un risultato in sé, anche se non voluto. Insomma, l'idea secondo la quale la definizione di obiettivi specifici e misurabili sia così abilitante al successo mi lascia molto perplesso. È forse per questa ragione che mi riesce difficile descrivere come mi vedo tra cinque o dieci anni. Forse quelli che descrivono perfettamente il loro futuro desiderato e definiscono minuziosamente gli obiettivi funzionali alla sua realizzazione sono povere vittime di un equivoco, l'equivoco secondo il quale saremmo protagonisti del nostro destino. Il vento è cangiante e la nostra barca va a vela. Magari anche noi come Cristoforo Colombo ci diamo l'obiettivo di approdare alle Indie e finiamo per scoprire l'America. Colombo ha dunque fallito? Sì, non ha di certo centrato il suo obiettivo. In compenso, credo non abbia tradito la sua vocazione e ha forse trovato la via della sua leggenda personale. trovare la propria via ha dunque a che fare più con il rispetto della propria vocazione che con il raggiungimento dei propri obiettivi. Da qui dunque occorre partire? Dalla definizione della nostra vocazione? In un certo senso sì, ma non facciamoci troppe illusioni. La piena comprensione della vocazione è il nostro traguardo, non è la linea di partenza. In fondo l'obiettivo è solo un espediente, un pretesto per fare il primo passo, ma come ci dice il grande Aleksandro Jodorowsky, il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei. Essenzialità, la seconda delle 15 parole del cammino. L'essenzialità ha a che fare con la sintesi, col minimalismo, con l'atteggiamento zen. I valori che possono guidarci in questo cammino sono tre. Semplicità, profondità, autenticità. Per alzare lo sguardo dal dito alla luna siamo dunque chiamati a semplificare. Facile? No, è molto più facile complicare piuttosto che semplificare. Per complicare basta aggiungere un po' di orpelli qua e là, per semplificare invece occorre eliminare l'inessenziale, ma discernere cosa sia inessenziale è appunto per nulla facile. Semplificare significa innanzitutto lasciare andare ogni rassicurante zavorra e ogni dimostrativo orpello. Bisogna imparare a buttare via. La nuova epoca non è fatta per gli accumulatori seriali di idee statiche o immobili rappresentazioni di sé. È fatta per chi sa vivere nel tempo che cambia, sa ballare sotto la pioggia, sa buttare via e ripartire. Buttare via non significa correggere, significa rinunciare all'idea iniziale, a quell'idea alla quale magari ci eravamo maledettamente affezionati. Il secondo valore che ci può orientare nel cammino volto ad alzare lo sguardo dal dito alla luna è rappresentato dalla profondità. Quando parlo di profondità alludo alla profondità di pensiero, ma anche alla profondità emotiva. La nostra profondità di pensiero necessita di apertura mentale e autonomia di giudizio. Dimostriamo profondità di pensiero quando andiamo oltre le facili etichette, quando non cediamo alla tentazione delle facili certezze, quando cogliamo, per dirla con Manzoni, come spesso il buon senso si faccia da parte per paura del senso comune. Dimostriamo profondità di pensiero quando rifiutiamo il facile ribellismo e scegliamo l'umile gesto del dubbio e il conseguente gusto della scoperta. Il terzo valore che ci aiuta ad alzare lo sguardo è riconducibile all'autenticità. Il concetto di autenticità ci riguarda soprattutto nella gestione delle nostre relazioni. Significa innanzitutto non cedere alla tentazione di una gestione finalistica del nostro rapporto con gli altri, metterci in gioco ed esserci. Grazie al nostro esserci potremo andare oltre la considerazione dei bisogni degli altri, oltre un apprezzabile ma talora sterile esercizio di sensibilità e potremo vivere un'esplorazione più profonda che ci faccia intravedere le ambizioni e i desideri degli altri, la loro pulsione a crescere e ad affermarsi e ci consenta così di metterci al loro servizio, al servizio della loro crescita. Ciò attraverso un atteggiamento aperto e non difensivo, disposti anche a correre qualche rischio derivante dal nostro gusto di metterci in gioco. Questo esercizio di autenticità genera normalmente quello spessore relazionale che ci può abilitare a meravigliose esperienze relazionali. Ogni qualvolta riusciamo a eliminare il superfluo, a guardare al mondo con lo sguardo del cercatore d'oro, a entrare in contatto autentico con gli altri, viviamo un'esperienza intimamente appagante. In attesa dell'illuminazione finale possiamo dunque trovare qualche indicazione in quei periodici risvegli che ci fanno accedere a una coscienza più profonda e a un ascolto più attento. Grazie a quei risvegli possiamo in sostanza provare a risintonizzarci sulla luna che siamo chiamati a traguardare, sulla nostra leggenda personale. Cambiamento non poteva mancare tra le quindici parole del cammino. Più che una parola è un refrain, un ritornello, un'ossessione. Viviamo nell'epoca del cambiamento continuo, si dice, ed è vero. Così vero che in fondo il cambiamento è diventato il nuovo stato stabile con cui fare i conti. Un paradosso? Sì, ma c'è del vero. Il cambiamento non è più qualcosa da gestire, è qualcosa dentro a cui vivere. E noi cambiamo? Forse no. Forse cresciamo ma non cambiamo così tanto. Forse scopriamo solo parti inesplorate di noi. Forse crescere non corrisponde a cambiare, ma a scoprire la propria molteplicità. Forse dobbiamo spostare l'attenzione. Forse dobbiamo distogliere lo sguardo dal dito che indica la luna. Certo, per spostare l'attenzione dal dito alla luna occorre alzare lo sguardo. È alzando lo sguardo che possiamo osservare dall'alto anche noi stessi, percepire il mare dentro di noi e scorgere quale animali marini abitano il nostro acquario interiore. Acquario interiore? Cosa intendo per acquario interiore? Per un certo periodo ho collaborato professionalmente con l'organizzazione che gestisce l'acquario di Genova e ho così avuto l'opportunità di guardare agli animali con altro sguardo. Lo sguardo che si adotta quando si osservano i pesci dall'altra parte della vasca. È da quell'angolazione che ho guardato gli animali con occhi nuovi. Ho iniziato a guardarli come esseri viventi e ho imparato ad apprezzarne le diverse peculiarità. Animali di vario genere, tipi diversi con attitudini molto diverse, proprio come gli esseri umani. Tre animali hanno colpito la mia immaginazione in particolare, il delfino, lo squalo e la medusa. Se non adeguatamente sollecitato, il delfino tende a deprimersi, riducendo così le sue barriere immunitarie e finendo per rischiare di ammalarsi. Così l'addestratore redige una scheda per ciascun delfino nella quale pianifica e tiene nota delle sollecitazioni e dei cambiamenti da proporre all'animale. Questa pratica si chiama enrichment ed è alla base di una corretta gestione del rapporto col delfino. Gli squali, quando sottoposti a un eccesso di instabilità, tendono ad andare sotto stress, finendo per ridurre le loro difese immunitarie e rischiando di ammalarsi. Strani animali, gli squali, hanno la fama di essere feroci predatori quando solo l'uno per cento delle tante specie di squalo può rappresentare un pericolo per l'uomo. Inoltre, a dispetto della loro fama, se la fanno sotto per il più piccolo cambiamento. Quando volevo fare quattro chiacchiere con uno degli acquaristi, il più delle volte proponevo loro, come luogo di incontro, la sala delle meduse. Su di me esercitano un fascino tutto speciale, eleganti, sinuose, armoniche. Esse hanno una caratteristica di fondo, di fatto non sanno nuotare. Questo le costringe a peregrinare per i mari seguendo la corrente. Per questa ragione le vasche delle meduse sono alimentate in modo da generare corrente e garantire il loro movimento. Loro, le meduse, si mettono in posizione, si dispongono. Al resto, pensa la corrente alla quale esse si affidano. Non sfuggirà come le attitudini di questi tre animali richiamino altrettanti tipi umani. Chi ama il cambiamento, chi ama la stabilità, chi segue la corrente. D'altronde, queste tre caratteristiche albergano sia pure in modi diversi in ciascuno di noi. Ognuno di noi dispone dunque del suo acquario interiore. Bisogna imparare a conoscerlo. Per quanto gli individui siano molteplici e contraddittori, ognuno ha le sue attitudini prevalenti. Esse disegnano proprio la diversità tra le persone. Ci sono attitudini on-off, o da una parte o dall'altra. Magari con diversi gradi di intensità, ma o di qua o di là. Questo ci riguarda in particolare in quattro diverse propensioni. Introversione-estroversione, neutralità-giudizio, emotività-razionalità, intuitività-deduttività. Ognuno può provare a posizionarsi sui quattro assi e disegnare il proprio diagramma, ma posizionarsi al centro, al centro di un asse, come dicevo, non vale. E il nostro atteggiamento verso il cambiamento, verso il mondo che cambia, quali attitudini ci definiscono di fronte al cambiamento? Esse definiscono il nostro atteggiamento. Atteggiamento, la quarta delle quindici parole del cammino. Per classificare le attitudini di fronte al cambiamento facciamo riferimento alla metafora della fish leadership. Il tipo delfino ama l'innovazione. Attribuisce un valore pregiudizialmente positivo alla parola nuovo. Costantemente alla ricerca di nuovi approcci e nuove visioni cerca alleanze intorno alle sue visioni. Tende a entusiasmarsi anche di fronte a nuove idee proposte da altri che in generale sostiene e alle quali cerca di aggiungere valore. Normalmente non lesina energia e non distingue così rigidamente il piano dell'impegno da quello del gioco. Ama la socialità e cerca di generare alleanze verso obiettivi comuni. Ama circondarsi di suoi simili e con essi fare community. Animato dallo spirito del per e del farsi carico. Talora fa prevalere il gusto del cambiamento sull'orientamento al risultato. Il tipo squalo ama la stabilità e di fronte a un possibile cambiamento si domanda se sia davvero così necessario. Le abitudini consolidate rappresentano il suo territorio preferito. Coglie e rivendica il valore delle radici e teme che il cambiamento possa snaturare l'identità di un'organizzazione o di una comunità. Ama le cose del passato e tende a conservarle rivendicandone il valore. Di fronte al cambiamento e all'innovazione ne riscontra e valuta attentamente i rischi. Ama le battaglie contro e vede in esse una dimostrazione della sua autonomia di giudizio e del suo senso critico. Tende a non accettare l'approssimazione, il tentativo, la possibilità del fallimento e talora sembra pretendere la perfezione. Grazie ai suoi sì però, ai suoi sì ma se poi succedesse che, spesso finisce per rinunciare alla possibilità del miglioramento piuttosto che adottare una soluzione migliore ma imperfetta. Il suo orientamento alla conservazione lo porta a perdere di vista al mondo che cambia e conseguentemente ad allentare il suo rapporto col qui e ora. Il tipo medusa non è orientato al farsi carico, ma al fare. Fa quello che ritiene di dover fare, normalmente senza lamentarsi. Tipicamente non troppo interessato al successo e alla carriera si affida a chi ha maggiori responsabilità. Ben difficilmente ostacola il cambiamento ma mai lo promuove. Da un certo punto di vista appartiene a quella che un tempo si chiamava maggioranza silenziosa. Non ama i conflitti che anzi previene e rifugge. Vive in pace con se stesso e con gli altri. Nel nostro mare interiore non nuotano il pesce giusto e il pesce sbagliato. Ognuna delle tre attitudini ha dei talenti da mettere al servizio del nostro cammino. Eppure spesso tendiamo ad affezionarci a un pesce in particolare, escludendo o reprimendo gli altri due. Così tendiamo ad esempio a farci belli del nostro non saper stare con le mani in mano, aver bisogno di sentirci attivi, il delfino, oppure a farci belli della nostra convinzione che a noi non la si racconta, sappiamo cosa c'è sotto, meglio non fidarsi, lo squalo, oppure a farci belli del nostro inno, vivi e lascia vivere, la medusa. Questi tre stereotipi, essendo centrati su una sola parte della nostra ricchezza interiore, ci portano ad assomigliare più a caricature di noi stessi che non a ciò che abbiamo intuito di essere. Pur considerando la possibile prevalenza di uno dei tre elementi, la nostra crescita passa attraverso la piena accettazione di tutte le tre componenti, delfino, squalo e medusa, e attraverso la finalizzazione dei talenti che ciascuna esprime. Il tipo delfino, infatti, se non mediato da squalo e medusa, tende a privilegiare il gusto del cambiamento sull'orientamento al risultato, finendo, per procedere senza una direzione definita, lasciando così spesso incompiuti i suoi vaghi progetti. Il tipo squalo, se non mediato da delfino e medusa, finisce per trasformare la sua diffidenza e prudenza in alibi al suo immobilismo. Il tipo medusa, se non mediato da delfino e squalo, perde visione del futuro e senso critico e finisce per aderire bovinamente al branco. Occorre dunque integrare i talenti dei tre elementi che compongono il nostro mare interiore. La combinazione di questi tre elementi disegna il nostro atteggiamento verso il mondo e, in particolare, verso il mondo che cambia. Qual è l'atteggiamento migliore per entrare in contatto col nostro mare interiore? Quale spirito ci deve guidare? Uno spirito indagatorio, giudicante? Ovviamente no, uno spirito curioso e aperto, uno spirito fiducioso nella bellezza degli individui e quindi di ognuno di noi. Lo spirito con cui indagare se stessi è quello del cercatore d'oro, quello dell'esploratore di nuove possibilità, nuove terre, nuovi approdi. La parola chiave è esplorazione, la quinta delle quindici parole del cammino. Se riusciamo a identificare i talenti dei nostri animali interiori e a finalizzarli alla nostra missione, alla nostra leggenda personale, tutto si risolverà magicamente per il meglio. No, ovviamente non è così. C'è infatti un quarto pesce in agguato, sta nascosto nelle viscere del nostro mare interiore, non lo vediamo ma c'è. Si tratta della murena. La murena interiore rappresenta la nostra voce autoboicottante, ci mette in contatto con le nostre parti più oscure, i nostri alibi, i nostri rancori. Si nasconde nel fango della nostra negatività. Non è facile da scovare. Rappresenta quella voce interiore ipercritica che ci suggerisce le nostre mancate possibilità, le nostre carenze, l'impossibilità di realizzarci in un mondo troppo difficile e cattivo. La sua voce giudica e accusa. La murena va riconosciuta e neutralizzata. Ma come si neutralizza la murena interiore? Quali sono gli antidoti? Il principale antidoto consiste nel trattarci bene e prenderci cura di noi stessi. È importante prestare attenzione a come ci trattiamo ad esempio nel nostro dialogo interno. Quali parole ci rivolgiamo? Siamo giudicanti e maleducati con noi stessi? Ci rivolgiamo parole poco carine? Dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni ma mai autoinsultarci. La voce interiore che ci insulta è la voce della murena. Quando si presenta ricacciamola nella sua tana. Un altro antidoto è rappresentato dalla nostra capacità di perdonare. La fanghiglia del rancore è l'humus ideale della murena. Impariamo a perdonare noi stessi per imparare a perdonare gli altri. Così facendo, adottando questi antidoti, libereremo la voce del delfino. Esso ci aiuterà a migliorare la nostra vita sociale, libererà energie positive, ci predisporrà al sorriso e al gioco. Ora che abbiamo alzato il nostro livello di coscienza sul nostro mare interiore, ora che abbiamo messo a fuoco alcuni nostri cruciali talenti, ora che abbiamo colto come limitare i danni della nostra voce autoboicottante, possiamo finalmente mettere mano alla definizione della nostra leggenda personale, della nostra vocazione ispirante. Sono fatto così, cosa vuoi che ci faccia? No, non siamo fatti in un modo, siamo fatti in tanti modi che convivono in noi. Le nostre attitudini possono essere miscelate in modo diverso e generare infinite sfumature. No, non siamo fatti così, siamo molteplici. La nostra anima si compone di una molteplicità di diversi personaggi che ci raccontano nelle diverse situazioni. Molteplicità, la sesta delle quindici parole del cammino. L'identificazione totalizzante con una parte di noi rappresenta il più spietato killer della nostra emancipazione personale. L'orientamento a etichettare noi stessi è funzionale a precostituirci gli alibi per i nostri mancati successi. L'orientamento etichettare gli altri ci impedisce di promuoverne la crescita. Le etichette, totalizzando su una parte, allentano la nostra coscienza rispetto alla meravigliosa contraddittorietà del mondo e delle persone. La linearità è tipica di fanatici e nevrotici. La persona compiuta accetta, invece, la propria e altrui contraddittorietà. Il saggio ne riscontra la ricchezza. Cos'è la passione? Un sentimento impetuoso? Un sentimento così intenso da impedire il controllo della ragione? Il termine passione deriva dal latino pati, patire. Da un certo punto di vista il termine passione si contrappone al termine azione, in quanto indica una condizione di passività da parte del soggetto che si trova sottoposto a un'azione o condizione esterna che ne limita l'azione. Da un altro punto di vista le nostre passioni corrispondono a ciò che ci coinvolge maggiormente, a ciò che semmai genera azione. Forse la passione rappresenta entrambe le cose, blocco ed energia. La passione amorosa, ad esempio, induce alle azioni più folli ed energeticamente dispendiose, ma al contempo ci incatena e ci imprigiona nella dipendenza. Nec si ne te, nec te cum vivere possum, scriveva Ovidio. Non posso vivere con te né senza di te. Blocco ed energia. Sta di fatto che senza il carburante della passione il cammino è ben più faticoso ed è per questo che la passione è la settima delle quindici parole del cammino. Normalmente associamo la vocazione a ciò che maggiormente ci coinvolge, ci piace, appunto ci appassiona. Segui le tue passioni, si dice, intendendo con ciò la sicura garanzia di rispettare la propria vocazione. Questa retorica della passione ci fa spesso smarrire la nostra autentica via e genera una grande quantità di sedicenti artisti, convinti di omaggiare la propria vocazione, ma in effetti vittime di una propria passione. No, la vocazione non corrisponde tout court alla passione. La sua identificazione prendesse mai le mosse dai nostri talenti, non da ciò che ci piace, ma da ciò in cui otteniamo meritevoli risultati. Ma chiunque può avere una vocazione non è forse cosa riservata a certe attività più simili a una missione, quale quella del medico, dell'insegnante, del sacerdote. No, sono convinto che qualunque attività possa essere vissuta con piena partecipazione e non esistano eccezioni. Credo che la vocazione, intesa come sintesi di talento e passione, possa riguardarci tutti. Chiunque finalizzi un talento in un'attività che corrisponda a una sua autentica passione, sta onorando la sua vocazione. Non importa se fa il manager o il contabile, il sacerdote o la escort, lo sportivo o il pompiere. Secondo la mia esperienza, quando si esercita concretamente la propria vocazione, si ottengono risultati eccellenti con una certa naturalezza e in modo piuttosto continuativo, ma soprattutto con piena soddisfazione di sé. Ciò che accade è predeterminato oppure del tutto casuale? Quanto gli individui influiscono nel determinare eventi e accadimenti? E se tutto è davvero casuale? C'è forse una regola del caos? C'è forse una sorta di regia occulta? Esiste un disegno più ampio, abilitato in qualche modo da un sentire più alto? Possiamo ritenerci davvero artefici del nostro destino o dobbiamo farci una ragione di un copione già scritto? Per quanto ci si ritenga protagonisti della propria vita, la sensazione di percorrere una strada già tracciata, di recitare un copione già scritto, di vivere per compiere il proprio destino, in qualche modo appartiene a tutti noi. Siamo forse tutti predestinati a qualcosa. Si tratta di qualcosa da accettare o rifiutare? Di qualcosa da agevolare o combattere? No, per me si tratta di qualcosa a cui volere bene. Destino, l'ottava delle quindici parole del cammino. L'artefice del nostro destino siamo dunque noi stessi o il fato? I due piani vanno forse combinati insieme. Secondo Gustav Keser non è poi così importante ciò che ci viene messo nella culla quanto lo è invece l'uso che ne facciamo. Ciò che ci viene messo nella culla corrisponde a ciò che ci riserva il destino. L'uso che ne facciamo corrisponde al nostro libero arbitrio. Nella culla ci può essere stato messo un talento piuttosto che un altro, un'educazione piuttosto che un'altra, una condizione sociale piuttosto che un'altra, un carattere piuttosto che un'altro. Certo, su tutto ciò non possiamo influire, possiamo però scegliere che uso farne. Siamo dunque tutti più liberi di quanto si immagini. Immaginarci poco liberi e molto vincolati, immaginare che i nostri comportamenti derivino da scelte obbligate, immaginare di essere inevitabilmente e totalmente condizionati dalla società o dal cosiddetto sistema, alleggerisce l'ansia della scelta. Ci libera dalla responsabilità di dare una direzione alla nostra vita e allevia il nostro senso di frustrazione, ma ci condanna a un atteggiamento passivo e vittimistico. Ci allontana dalla nostra leggenda personale. Ci fa perdere la via. Ogni volta che pronunciamo frasi come non ho altra scelta, stiamo tradendo noi stessi. Siamo sempre liberi, infatti, in ogni circostanza, di scegliere che atteggiamento adottare. Allo stesso modo, quando ci lasciamo andare ai nostri sì ma e sì però, stiamo costruendo i nostri alibi. Le nostre scelte non sono fatte di sì ma e di sì però. Sono fatte di sì potenti e di no coraggiosi. Si dice che la più autentica delle arti consista nel saper vivere ic et nunc, qui e ora. C'è del vero. Doveva ancora nascere Gesù quando Orazio scriveva carpe diem, cogli l'attimo. A pensarci bene, gli animali vivono nel qui e ora e non sembrano preoccuparsi del futuro. Ma perché l'essere umano invece è così propenso a pianificare, prevedere, anticipare, costruire? Perché è così orientato al futuro? Ognuno può fornire le sue risposte, siano esse di stampo antropologico, di stampo spirituale. Ma quale rapporto intercorre tra presente e futuro? Non è raro che ci si concentri sul futuro a causa del malessere che ci genera il presente. Il malessere rappresenta la più potente molla che genera l'azione. Capita di interrogarsi sul futuro in un costante e magari infruttuoso dialogo interno, di lasciarsi andare all'angoscia generata dal non vedere soluzioni praticabili. Questo atteggiamento non porta a nulla di buono e aumenta il disagio del presente. Il futuro si costruisce invece agendo nel presente. Solo l'azione nel presente spalanca inattesi scenari. Per costruire il futuro occorre dunque vivere il presente, gustarlo, assaporarlo, digerirlo. Futuro, la nona delle quindici parole del cammino. Siamo tutti figli della cultura del bisogno. Pensiamo ad esempio che una buona politica debba rispondere ai bisogni dei cittadini, che un buon manager debba ascoltare i bisogni dei suoi collaboratori, che un buon insegnante debba tenere in conto i bisogni dei suoi allievi. Certo c'è del vero, ma questo focus sui bisogni ci fa distogliere talora l'attenzione dal piano dei desideri. Una buona politica deve anche mettere i cittadini in condizione di poter realizzare i propri desideri, le proprie ambizioni. Un buon manager deve anche sintonizzarsi sui desideri di ogni suo collaboratore, al fine di aiutarlo a realizzarsi professionalmente. Un buon insegnante deve anche favorire il fatto che ogni allievo abbia più chance di realizzare i propri desideri, quindi se stesso. Tutti siamo piuttosto confidenti nella piena consapevolezza dei nostri bisogni, ma in quanto ai nostri desideri il grado di consapevolezza è normalmente molto più modesto. Così finiamo per confondere i due piani e questo è un grande pasticcio. Se prendessimo carta e penna e provassimo a elencare tra i nostri bisogni e tra i nostri desideri ci renderemmo subito conto della difficoltà dell'esercizio. Sul piano teorico comprendiamo lucidamente la differenza delle due dimensioni, ma sul piano pratico tutto si complica. Mettere a fuoco i propri desideri è un passo cruciale del nostro percorso volto ad affermare noi stessi. Per adottare un atteggiamento che ci aiuti a distinguere i due piani, la regola da seguire è la seguente. Non vergognarsi dei propri bisogni, sintonizzarsi sui desideri altrui. Si tratta di una regola aurea che può guidarci nella gestione di tutte le relazioni su cui desideriamo investire. Il bisogno è mio e lo condivido con te, il desiderio è tuo e lo faccio mio. Questo atteggiamento genera uno straordinario incremento dello spessore relazionale, previene ogni forma di dipendenza, ci abilita a promuovere la crescita degli altri. Questo atteggiamento non risponde ai bisogni dell'oggi. Ponendosi sul piano del desiderio concorre in modo decisivo alla costruzione del futuro. Come già detto, non si cresce imponendosi di cambiare, si cresce facendo l'esatto contrario, cioè allineandosi con i propri talenti, con le proprie attitudini, con la propria autentica essenza. Il meglio di noi stessi non lo diamo quando ci sforziamo di essere diversi o quando emuliamo i nostri modelli preferiti. Diamo il meglio di noi stessi quando ci sentiamo allineati con la nostra identità e col nostro destino, quando ci sentiamo in armonia con la nostra leggenda personale. Armonia, la decima delle 15 parole del cammino. Allora ci sentiamo attanagliati dal bisogno di cambiamento. Cambiare cosa? Non sempre è chiaro, spesso è nebuloso, sentiamo di voler cambiare ma non sappiamo da che parte cominciare e ciò ci genera un senso di disagio, angoscia e smarrimento. Il bisogno di cambiamento è spesso fonte di autentica sofferenza, rappresentata da domande prive di risposte. Una depressiva sofferenza interiore che ci logora nel tempo. Ci sentiamo in stallo. In queste situazioni si ha l'impressione di voler cambiare tutto della propria vita. Ma il tutto, come ben sappiamo, è parente strettissimo del niente. Occorre adottare un altro atteggiamento. Gli assi della vita sono tre. Cosa faccio? Con chi? Dove? Cosa faccio, cioè di cosa mi occupo prevalentemente? Con chi? Cioè da chi mi faccio accompagnare nel mio percorso di vita? Dove? Cioè in quale casa, in quale città, in quale paese passo la mia vita? Normalmente i tre assi sono collegati. Cambiare città implica spesso cambiare lavoro, così come ad esempio cambiare partner implica spesso il cambiare casa. Per questa ragione è piuttosto normale che il cambiamento di un solo asse generi un complessivo cambiamento di vita. Quando si vuole alleviare la sofferenza determinata dal bisogno di cambiamento non bisogna cedere la tentazione dell'attesa che cambi tutto. Si parta invece da un asse, confidenti che la risposta ai nostri bisogni reali sarà magari determinata dai cambiamenti relativi ad altro asse, anche inaspettatamente. Dietro al bisogno di cambiamento c'è quasi sempre un disallineamento rispetto alla propria leggenda personale. Così il primo passo lo facciamo in una direzione un po' casuale, con modesta consapevolezza, magari vittime di convinzioni autoprodotte dalle proprie rappresentazioni mentali. Forse è un passo nella direzione sbagliata, ma nella maggior parte dei casi esso porta comunque al cambiamento di più di un asse, alla riconsiderazione dei propri desideri, a una tappa di avvicinamento alla propria leggenda personale. Lo abbiamo visto anche nel precedente capitolo. Crescere non corrisponde a cambiare. Per crescere occorre il coraggio di inseguire la propria autentica essenza, qualunque essa sia. Attenzione, quando dico qualunque essa sia non intendo a dispetto dei propri valori, perché noi possiamo esprimere i nostri originali talenti in mille modi. Come già detto, non è così importante quello che ci viene messo nella culla quanto lo è invece l'uso che scegliamo di farne. Le nostre attitudini possono apparirci come socialmente sconvenienti, come poco condivisibili dal senso comune, poco equilibrate, ma sono quelle. Non vergognarsi di come si è fatti, non reprimere le parti meno omologate di sé è il prerequisito per ricercare la propria via, anche a costo di apparire talora inadeguati o addirittura ridicoli. Per ricercare la propria leggenda personale si deve omaggiare la propria essenza. Essenza, l'undicesima delle quindici parole del cammino. Le teorie e le pratiche di coaching, crescita personale, self-empowerment, sono spesse intrise di retorica del cambiamento. D'altronde chiunque di noi prima o poi nel proprio dialogo interno ha rivolto a se stesso frasi come dovrei cambiare, dovrei essere più, dovrei essere meno, non sono abbastanza, sono troppo. Dal mio punto di vista si tratta di tempo perso, le persone appunto non cambiano. Questo significa forse che gli individui restano nel tempo uguali a se stessi? No, perché le persone non cambiano ma crescono. Sì, vabbè, ma in fondo è la stessa cosa. No, per crescere bisogna fare l'esatto contrario di ciò che si fa per cambiare. Per crescere bisogna infatti allinearsi progressivamente con la propria autentica essenza, con ciò che davvero si è o si è intuito di essere. Ma cosa si intende per autentica essenza? Sono dell'opinione che gli individui siano riconoscibili grazie ai loro talenti e non grazie ai loro limiti. Di Ray Charles nessuno direbbe che era un povero cieco che sapeva suonare il pianoforte. Lo si definirebbe semmai un grande autore, pianista, jazzista, cantante. La sua disabilità passa in secondo piano. Allo stesso modo se qualcuno ci chiedesse cosa ci colpisce di più di Bebevio e cosa racconta la sua identità, con ogni probabilità faremmo soprattutto riferimento alla sua solarità, alla sua energia, alla sua determinazione, per quanto mi riguarda anche alla sua bellezza. La sua menomazione non solo passerebbe in secondo piano ma sarebbe semmai confermativa dei suoi talenti. Sì, la nostra autentica essenza consiste nel concentrato dei nostri talenti, nel distillato dei talenti di ciascuno dei nostri pesci interiori, di tutti i nostri pesci interiori, quelli orientati al del delfinismo, quelli caratterizzati da squalitudine, quelli che si affidano alla medusagine, compresi quelli con cui abbiamo un rapporto più difficile. Se scoveremo la luce contenuta nelle nostre ombre, lì troveremo i nostri talenti più identitari. Se entreremo in contatto profondo con il nostro delfinismo, con la nostra squalitudine, con la nostra medusagine e ne coglieremo i diversi talenti, più facilmente e speditamente potremo perseguire i nostri desideri e stare sulla via della nostra leggenda personale. Se invece cercheremo il successo nell'adozione di modelli che non ci appartengono, potremo anche conquistare temporanee affermazioni, ma inevitabilmente ci allontaneremo dalla nostra via, scontando l'infelicità spesso profonda che questo comporta. Potere Potere è una strana parola, essa può essere utilizzata sia come verbo che come sostantivo. Il verbo potere presuppone un soggetto che esprima scelte e agisca liberamente. Il sostantivo potere attribuisce invece a un'entità esterna la libertà di condizionare la vita degli individui. Sì è vero, le due dimensioni convivono, ma troppo spesso il potere inteso come sostantivo rappresenta un alibi alla nostra non-azione. Quando scegliamo esercitiamo potere, inteso come verbo, e potendo scegliere esprimiamo la nostra libertà. Il potere inteso come sostantivo di un'entità esterna è il nostro alibi, mentre il nostro potere interiore, inteso come verbo, è la nostra forza. Attribuiamo l'etichetta di potere al capo, al governo, alle istituzioni, ai poteri forti, per fare degli esempi, ma il più grande potere inteso come verbo è il nostro. Sicuramente ognuno di noi può. La consapevolezza di essere individui liberi di scegliere che atteggiamento assumere in ogni circostanza è fonte di liberazione del nostro potere interiore. Per questo possiamo affermare che il potere è bello e liberatorio. Potere, la dodicesima delle quindici parole del cammino. Non posso. Quante volte abbiamo pronunciato questa frase? Spesso l'abbiamo arricchita con l'aggiunta del purtroppo, magari implicitamente. Ebbene non è vero, sempre o siamo. Non esiste una sola circostanza nella quale non si sia individualmente liberi di scegliere che atteggiamento assumere, come comportarsi. Qual è il più insidioso killer della nostra volontà? Cosa limita il nostro potere? Cosa ci impedisce di volere? L'alibi della scelta obbligata, del condizionamento bloccante, del potere come sostantivo e non come verbo, l'alibi del devo. La nostra volontà è liberata dal voglio ed è compressa dal devo. Nel fare ciò che si desidera e che si vuole è contenuto un atto di responsabilità. Nel fare ciò che si deve perché si deve sono evocati i nostri alibi e contenute le nostre rinunce. C'è poco da fare. In effetti facciamo sempre ciò che vogliamo, ma raccontandoci di fare invece ciò che dobbiamo, rinunciamo al nostro potere e così facendo non ci avviciniamo di un centimetro alla via della nostra leggenda personale. La consapevolezza della nostra libertà ci abilita all'esercizio del nostro potere, viatico per diventare la nostra via. Ancora una volta sono dunque i nostri desideri a muoverci perché noi spendiamo il nostro potere in ciò che vogliamo. Solo se sappiamo cosa vogliamo potremo esprimere un atto di volontà e avere il potere di realizzare i nostri desideri e solo allora scopriremo che quei desideri corrispondono a ciò che in fondo abbiamo sempre voluto. Realizzando ciò che in fondo abbiamo sempre voluto realizzeremo noi stessi e diventeremo ciò che abbiamo intuito di essere. Mettersi in cammino presuppone dunque innanzitutto prendere coscienza di ciò che si desidera, di ciò che si vuole. Si può sconfiggere il generale che comanda tre armate ma non si può smuovere la ferma volontà di un uomo semplice. Così diceva Confucio e aveva ragione da vendere. Questo concetto ha permeato la cultura cinese tanto che un loro proverbio di uso molto comune recita così. Le grandi anime hanno la volontà, le deboli non hanno che buoni propositi. In fondo la volontà è l'unica leva che può sbloccare l'immobilismo che talora la passione paradossalmente induce, come si diceva nel capitolo ad essa dedicato. Non a caso Euripide diceva che quando la passione è più forte della volontà è causa di danni grandissimi per gli uomini. Sì, l'atto di volontà è quanto di più alto possa compiere un essere umano. Non a caso quando gli angeli annunciano ai pastori la nascita di Gesù utilizzano l'espressione gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Volontà, la tredicesima delle quindici parole del cammino. Come si fa a mettere a fuoco ciò che davvero si vuole? Mi spiace deludere il lettore ma forse non è possibile. Non è possibile decidere cosa si vuole e poi mettersi in cammino. Non c'è tutta questa differenza tra la meta, ciò che desideriamo, e il cammino, la via per realizzarlo. Il cammino infatti corrisponde ai gesti dell'artista, alle pennellate del pittore, alle scalpellate dello scultore, alle riprese del regista, al susseguirsi delle note del compositore. Per questo anche la nostra nebbia inizierà a diradarsi facendo il primo passo, percorrendo il primo metro. Sì, ma in quale direzione percorriamo il primo metro? Non è così importante. Non è così importante il primo tasto che sfiora il compositore. L'unica cosa certa è che se non ci si siede al pianoforte e non si sfiora quel primo tasto la composizione non avrà mai vita. Per riconoscere il tempo dell'azione dobbiamo metterci in ascolto. Il nostro stato d'animo ci parla in continuazione fornendoci innumerevoli input. Lo stato di benessere normalmente non motiva all'azione. È lo stato di insoddisfazione che ci spinge all'azione. Ma non basta essere spinti, abbiamo bisogno anche di qualcosa che ci traimi, un po' come il carro carico di balle di fieno che, specie nei tratti di strada impervi, viene spinto dal contadino e trainato dall'asinello. Il malessere ci spinge, ma cosa ci traina? La visione di ciò che abbiamo intuito di essere. In effetti, quando sentiamo di essere spinti al cambiamento ma nulla ci traina, lo stato di malessere permane, si incancrenisce, può degenerare in stato depressivo. La depressione non ha origine dal malessere del presente, ma dallo stato di stallo. Il sentimento alla base della depressione non è la disperazione, è la disperanza. Per questa ragione il principale antidoto alla depressione consiste nel coltivare la visione. È la visione che ci induce ad agire. Qualunque passo qualunque azione, indipendentemente dalla direzione, rappresenterà comunque una tappa di avvicinamento verso una più compiuta affermazione di noi stessi. Le proprie aspirazioni e i propri desideri emergono dunque da un segnale, talora anche debole, di malessere. Il malessere ci spinge al cambiamento, la visione di ciò che abbiamo intuito di essere ci traina verso l'azione. Essa può essere finalizzata al cambiamento della realtà esterna ma anche della nostra realtà interiore. Sarà il primo passo a dare vita al processo di cambiamento, al nostro percorso di crescita e sarà durante il cammino che avremo l'opportunità di farci meravigliare da soluzioni insperate e inattese che daranno forse al nostro percorso una direzione imprevista che però ci avvicinerà a ciò che abbiamo intuito di essere. La nostra vita è piena di quei primi passi che nei vari mondi che abitiamo ci mettono sulla via della ricerca del benessere attraverso il cambiamento della realtà esterna o interiore. Quei primi passi raccontano chi siamo. In quei primi passi è contenuta la nostra ambizione più alta, diventare la nostra via. Il verbo agire deriva dal latino agere, spingere. L'azione ci spinge verso uno stato nuovo, verso il cambiamento, verso il futuro. Senza l'azione non c'è sostanza nel qui è ora e non c'è energia verso il futuro. Mettere in pratica i nostri pensieri è la cosa più difficile del mondo, ce lo ricorda Goethe. Azione, la quattordicesima delle quindici parole del cammino. Sì, l'azione è ciò che fa la differenza. Non siamo il risultato che otteniamo, siamo la strada che percorriamo. Come dicevo, quando la realtà che viviamo corrisponde alla nostra visione delle cose, proviamo un senso di benessere e agio. Quando invece la realtà si scosta dalla nostra visione delle cose, possiamo essere attagliati da un certo senso di frustrazione e disagio. Ciò normalmente ci fa sentire in crisi e ci spinge ad adottare un atteggiamento lamentoso, talora vittimistico. dove ci porta tale atteggiamento? Nella migliore delle ipotesi a uno stato di passiva rassegnazione che libera la nostra murena interiore. Essa ci detterà la sua litania fatta di parole oscure e boicottanti. Il sistema è cattivo, sei un incompreso, nulla puoi fare per cambiare le cose, gli altri non possono capire, le persone sono false, non cambierà mai nulla, tutto è inutile. Quando provano ad affacciarsi gli altri pesci interiori, la murena li scaccia e dissimula travestendosi. Può fingersi delfino e suggerirci la necessità di radicali ma impossibili cambiamenti. Ci indurrà la ricerca di un'irrealizzabile perfezione e infine alla rinuncia. Non puoi ottenere la perfezione, allora meglio lasciar perdere. Allora può fingersi squalo e a gioco piuttosto facile, facendo leva sui rischi del cambiamento. Non lasciare la strada vecchia per la nuova, sai cosa perdi ma non sai cosa trovi. Altre volte si finge medusa, proponendo un lasciar correre rassegnato e passivo. La tua coscienza può smascherare la murena, ma solo l'atto di volontà dell'azione la ricaccia nella sua fangosa tana. Quindi agire, viva l'azione. Per fare in modo che la realtà che viviamo corrisponda alla nostra visione delle cose, dobbiamo cambiare o l'una o l'altra. Dobbiamo intervenire sulla realtà in modo che assomigli alla nostra visione, oppure dobbiamo intervenire sulla nostra visione in modo che assomigli alla realtà che viviamo. Sono entrambe azioni volte a cambiare la realtà, esterna o interiore. Sì perché in fondo, come già detto, la nostra visione altro non è che la nostra realtà interna. Anche agire sulla nostra realtà interna genererà un cambiamento della realtà esterna. Ciò che conta non è fare molto, ma mettere tanto amore in ciò che si fa. Aveva ragione da vendere madre Teresa quando ci esortava in tal senso. Non andrebbe mai dimenticato. Senza amore ci può essere impegno, ma la strada che si percorre non ci fa andare oltre. Non ci fa andare oltre i confini di noi stessi. Non ci consente di farci prossimo, di entrare in sintonia con chi ci sta intorno. Non ci consente in definitiva di diventare la nostra via. Forse il termine amore è una metaparola troppo alta e misteriosa per essere mischiata con le altre parole del cammino. Ma ho voluto che, citata proprio per ultima, chiudesse il nostro viaggio racchiudendo in sé tutte le altre. Secondo Tagore, l'amore sarebbe la sola realtà e non un mero sentimento. Sarebbe la verità fondamentale che sottintende e si adagia nel cuore della creazione. Secondo Yogananda, l'amore sarebbe il suono dell'anima che canta Dio, l'equilibrata e ritmica danza dei pianeti, sole e luna accesi. Queste parole suggeriscono di considerare l'amore come qualcosa di appartenente alla sfera spirituale e ci ricordano la definizione di Dio che ci regala Dante Alighieri concludendo la Divina Commedia. L'amore che muove il sole e altre stelle. Sì, l'amore forse appartenendo alla sfera spirituale ci consente di andare oltre. L'amore è sfida, è essenzialità, è cambiamento, è atteggiamento, è esplorazione, è molteplicità, è passione, è destino, è futuro, è armonia, è essenza, è potere, è volontà, è azione. Sì, l'amore racchiude in sé tutte le parole del cammino e ci fa andare oltre il cammino stesso. Quali consapevolezze ci abilitano ad andare oltre, a fare sintesi delle parole del cammino? Esse sono sei. Siamo nati ieri. Siamo liberi di scegliere. Siamo tutti un po' ridicoli. Tutti lasciamo un segno. Comunicare significa esprimere ciò che si sente. Apparteniamo a qualcosa di più ampio. Sono le sei consapevolezze per andare oltre, quindi per poter davvero ricercare la via della propria leggenda personale e infine diventare la propria via. Ognuno di noi può dare la propria interpretazione di queste sei consapevolezze, può declinarle a proprio modo, può tradurle in diversi gesti, in diverse azioni. Se volgo lo sguardo aritroso e osservo la mia vita, vedo tanta strada percorsa, vedo un ragazzo che si batte per i suoi ideali, vedo un giovane che si conquista la sua indipendenza, vedo un professionista che cerca di riaffermarsi. Ho fatto tante cose. Ho falciato l'erba e mi è tutto il grano. Ho vendemmiato e pigiato l'uva. Ho pubblicato libri e registrato audiolibri. Ho fatto il dirigente della mia squadra del cuore, il Genoa. Ho realizzato un agriturismo in Kenya. Ho formato migliaia di manager. Eppure le cose che ho fatto non raccontano chi sono, raccontano forse solo chi avrei voluto essere, perché l'essenza della nostra storia non sta in quante cose abbiamo fatto ma quanto amore ci abbiamo messo. Sta tutta in come e quanto abbiamo amato e come e quanto siamo stati amati. È tutto qui. Amare gli altri, godere dell'amore e dell'amore degli altri, amare se stessi e il proprio destino. Per diventare la propria via bisogna imparare ad amare la propria via.